Che succede Rocco? Ti fermi? Gemma ti fermi in questo rapporto? Io mi fermo. No ma non voglio, no 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 no, cioè non voglio neppure, io mi fermo perché io sto bussando una porta chiusa, cioè Maria, io sto bussando una porta chiusa. Non c'è nessun tipo di interesse che io posso condividere con una donna della sua portata. Ma io l'avevo detto dall'inizio però, io avevo detto lei è una donna di un altro mondo e ha bisogno di un corpo diplomatico, ha bisogno di un'altra persona. Io sono una persona, alla fine io sono terra terra, io sono pane pane al vino. Rocco non facciamo obiettismo. Io ho bisogno di amore, effettivamente ho bisogno che la mia donna mi chiama, stai arrivando, sente già la scia del profumo, io non ho niente da condividere e tu con me non hai niente da condividere, tu hai bisogno di un diplomatico. Ma quale diplomatico ho bisogno io? Manco fosse un babà, ma non ho capito, ma se io avevo bisogno di te avevo bisogno, di te avevo bisogno, di te, di stare con te, di sentire.